Buongiorno, sono il managing director di Tiger Europa, Mirko Vindi, siamo qui a Solar per presentare la nuova gamma di ottimizzatori, in particolare il nuovo ottimizzatore TS4AO che è un'evoluzione del nostro ottimizzatore, più leggero, più compatto, fino a 500V quindi disponibile per tutti i moduli in commercio attualmente in più siamo qui per presentare la nuova cover del nostro smart cover si chiama TS4F che è in compliance con la normativa Sunspec americana quindi una nuova alternativa per la sicurezza sul tetto, sull'installazione sul tetto e in più il nostro monitoraggio che si arricchisce ulteriormente abbiamo la possibilità di monitorare oltre i nostri dati, oltre i 2000 inverter che possono essere collegati al nostro monitoraggio e inoltre abbiamo arricchito il nostro monitoraggio con una nuova funzione molto innovativa si chiama Reclaimed si può vedere essenzialmente quello che Taigo produce in più a un normale installazione fotovoltaica